Coppa di Francia, Marsiglia eliminato, in semifinale ai rigori. Marsiglia, Francia, in Coppa di Francia accade l'incredibile. A completare il piccolo Anneci. Squadra di Ligue 2, che fa fuori il Marsiglia eliminato ai calci di rigore. Dopo l'ero campulesco 2-2 che aveva portato ai tiri dal dischetto. Segna l'ex romanista Veretout. Pareggia d'Aiene la capovolge Muanga, l'ex intera Alexis Sanchez sbaglia un rigore. Ma il Baby Mug salva momentaneamente Tudor, che si arrende, gioco forza. Dopo gli errori di Teverise e Balerdi nella lotteria dagli 11 metri. La sorpresa della Coppa di Francia giocherà alla finale contro il Lione. Marsiglia Anneci, tabellino e statistiche Nantes e Tolosa si giocheranno la finale dall'altro lato del tabellone. Intregante semifinale tra i Nantes, campione in carica dopo il successo dello scorso anno sul Nizza. E il Tolosa, che non ha pietà del Rodezzi ragazzi di Comboare e Beffano quelli di Aise. Con un 2-1 firmato da De Lord, con una doppia trasformazione dal dischetto dopo il vataggio siglato da Fofana per gli ospiti. Quelli di Montanier non hanno alcuna pietà degli occetani, travolti per 6 a 1. Nantes e Lens, tabellino e statistiche.